Il simposio è la grande lezione d'amore del pensiero occidentale. Durante un composto banchetto Platone ci presenta le diverse dottrine dell'eros esposte nell'orizzonte del mito, nella filosofia presocratica, nella scienza medica, nel sentire comune in quello dei poeti. Testo chiaro, bello, diretto, breve, conciso e innocuo, in poche parole uno scambio di frivolezze e frizzanti ragionamenti tesi a rendere più confortevole l'ambiente tra degli uomini di pari lignaggio.